Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dal vostro Dark House 9 2 Oggi siamo qui ragazzuoli miei belli, siamo qui perché siamo tornati su Clash Royale Mamma mia quanto tempo ragazzuoli, ma potete vedere quanto ragazzi, quanto tempo Pensate che il mio canale è nato proprio con Clash Royale Comunque, tralasciato tutto questo andiamo a riscuotere tutti quanti i premi ragazzuoli Belli, tutti così, tutti belli, belli, belli Non abbiamo il pass, non abbiamo il pass, non abbiamo il pass Uh, già leggendaria, già leggendaria, eh sì, leggendaria Ma magari leggendaria, già epica, già epica, va bene, va bene, buono, buono, buono Allora, apriamo questi bei bauletti Uh, abbiamo sbloccato la nuova carta, che carta è? Buona Qual è? Questa qua? Ok, apriamoci questi bauli Cacciatore, buono, buono il cacciatore Questi qua ce li apriamo proprio così a baffo, tanto le gemme le abbiamo Buono il barile goblin, buono, 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 buono E abbiamo pure questo qua Niente di che, niente di che Ok, andiamo a riscuotere i premi 5.000 di oro, buono, buono Ok, dobbiamo arrivare alla leggendaria Mmm, ci arriveremo? Chissà Ok ragazzuoli, io direi di incominciare a farci una piccola scalata Però vorrei attivare il pass Lo compriamo il pass E compriamo il pass ragazzuoli Ok ragazzuoli, pass comprato Quindi, pass loyal E GG per noi Sblocca subito la soglia spendendo 100 gemme Ovvio che no Che spende 100 gemme io? No, non le spende 100 gemme Ok, abbiamo comprato il pass ragazzuoli Quindi adesso con il pass si va alla grande Ma prima di tutto Vi volevo far vedere il mio deck Principessa Domatore di cinghiali Sgherri Mini pecca I barbari scelti portati a livello massimo Attenzione Horde di scheletri Livello 10 Scarica livello 12 E sfera infocata a livello 10 Livello 10 Quindi adesso andiamo direttamente in classificata Attenzione ragazzuoli Mamma mia Dove aver comprato il pass solo per voi ragazzuoli Ok, ok, ci siamo Quindi, vediamo un po' Vediamo un po' Abbiamo un domatore di cinghiali Ci può stare Una bella combo Si può fare subito Facciamola Facciamola Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Attenzione Questa è una buona cosa Facciamo così Perfetto E ci portiamo subito la torre A casa E in saccoccia boys E dai così Belle 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 Ok Aia E qui come mi Come mi Come mi Raga È un problema È un problema Qui raga È un problema È un problema È un problema No No Forse abbiamo perso la torre raga Abbiamo perso la torre Cacchio È anche quella a sinistra forse Ci ha fatto un bel po' di danni eh Un bel po' di danni Lo ammetto Lo ammetto raga Però Però Dobbiamo farcela ragazzoli Dobbiamo farcela Allora L'unica cosa che potremmo fare è O andare direttamente alla torre centrale Vediamo 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 Ok Ok Facciamo così Facciamo così Perfetto Ci siamo Diciamo che ci siamo un po' Coperti Protetti Una hit la fa No Neanche quella Ok Principessa Cavolo Vediamo un po' Quell'orda di scheletri Ok Vai principessa Cavolo Questo è un problema Vediamo Vediamo un po' Con gli scheletri Aia Eh Non ci sono arrivato A coprirni Cioè A usare la scarica Non ci sono arrivato Vediamo un po' Vediamo un po' Se Facciamo di nuovo Questa Cosa Così Buono 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 Dai un'altra hit Ok Eh È un problema Questo raga È un problema È un problema È un problema È un problema Cacchio Oddio mio raga Adesso dobbiamo Contraattaccare Se no la perdiamo Se no la perdiamo La perdiamo raga La perdiamo Non dobbiamo assolutamente Perderla 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 Raga Cavolo No l'abbiamo persa Raga Cacchio Niente Oh Raga Ce l'ho messa Tutta Raga Ce l'ho messa Tutta Tutta ce l'ho messa Però Cioè Spammava Truppe In una maniera Pazzesca Va bene Non ci arrendiamo Non ci arrendiamo Raga Non ci arrendiamo Facciamone un'altra Facciamone un'altra Raga Facciamone un'altra Ok Vediamo un po' Vediamo un po' Eh Qui è dura Porco 2 Eh Diamo di fireball Così gli togliamo Un po' di vita Dai Cavolo Eh Dobbiamo andare Con lorda di scheletri Per forza La mettiamo così Ok E ci siamo Dai Ci siamo coperti bene Ragazzoli Ci siamo coperti bene Vediamo un pochettino Cosa potremmo fare qua Allora Io direi Di fare Una combo Stratosferica Speriamo che è una lorda di scheletri Eh che palle Che palle Che palle Raga Che palle Va bene Con la Con la principessa Più o meno Ci siamo Ce l'abbiamo fatta Eh Eh Questa fireball La dobbiamo prendere in considerazione Dobbiamo subito pushare Butta qualcosa Buono Buono Buonissimo così ragazzoli Buonissimo così Buono Gli lasciamo fare le hit raga Gli lasciamo fare Qua forse no No È meglio di no Vai Andiamo il controattacco Subito Subito Ok Questa è dura Se mette la scintilla Questa è dura raga Ok La scintilla non l'ha messo Mettiamo la principessa Così Ci portiamo Quello là avanti Ok Cerchiamo di fare così Buono Lui ha sprecato la Ok Facciamo così No Ho missato la Cacchio No non l'ho missata Non l'ho missata Buono Buono ragazzoli Buono Aia Eh questa L'unica che possiamo fare È così raga Facciamo così Perfetto Va bene Adesso voglio vedere Come si Adesso voglio vedere Cosa fai bro Adesso voglio vedere Cosa fai A terra Bibi A terra Bibi Dai è così Dai è così Dai è così Buono 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 ragazzo Abbiamo vinto GG Abbiamo vinto Boh Easy Easy Tre corone Portate a casa Let's go E dai è così E dai è così Più 31 Buone Più 31 Ragazzuoli Buone 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 Ok Facciamo così Ma non lo apriamo E io direi E io direi di farci L'ultima partita L'ultima partita Ragazzuoli La partita dell'anno Il king ritorna Il king ritorna Allora Allora Qui potremmo fare così E così Ok Aia Tavolo Eh Eh Oh Però gli stiamo buttando La torre giù Eh Dai Eh Quella principessa Non ci voleva raga Buono Facciamo così Cavolo Però Oh Stiamo andando alla grande Ragazzuoli Eh Mi abbiamo buttato pure giù Con gli scheletrini La torre di destra Quindi Tanta roba Tanta roba Ragazzuoli Ok Vediamo un pochettino Qui Come possiamo Strutturare l'attacco Ah Questa Ah Questa roba Ok Noi qui Possiamo Fare Oddio Mio raga Oddio Dio mio Qui Dobbiamo fare per forza così Raga Buono 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 Buonissimo Buonissimo Ci siamo Proprio Difese al top Raga Difese al top Io direi al top Ok 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 Tu lo butti di là Ok Quindi io direi di fare così Ok Ci siamo Però Lui Ci sta attaccando sempre da destra Quindi dobbiamo cercare di attaccare da sinistra per non farlo attaccare da destra Quindi per non fargli mettere le strutture a destra Cioè le strutture nel senso Ok Facciamo così Facciamo così e proviamo una mega 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 Raga Mannaggia Mannaggia raga Cacchio Non ci voleva questa raga Facciamo così Facciamo così raga No No Dai Let's go E si porta a casa anche la seconda partita GG Più 30 corone Baule d'argento Mamma mia ragazzuoli Mamma mia Il delirio proprio Metti in coda E subito subito Arriviamo a 4430 trofei ragazzuoli Io vi ringrazio a tutti quanti per aver visto questo video ragazzi Mi raccomando per un prossimo episodio arriviamo a 60 like Facciamo piano piano ok Quindi 60 like per un prossimo episodio Mi raccomando ragazzuoli Di lasciarli like eh Mi raccomando Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto E supportatemi con una piccola condivisione Mi raccomando ragazzuoli eh Ci conto eh Per questo ritorno immenso ci conto Ci vediamo al prossimo video Bella Mi raccomando per un prossimo episodio 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 Mi raccomando per un prossimo episodio